Il palazzo Bonaventura 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 quindi proprio la sensazione di qualcosa nell'aria che impedisse di respirare e quindi ci siamo subito preoccupati e siamo usciti dall'edificio. Lei ha portato i caffè ai dipendenti della provincia verso le ore 9? Sì, praticamente sono stato su, ho portato i caffè, dal momento che sono sceso sono passato nell'androne e non so, ho sentito qualcosa al naso, agli occhi pizzicare e anche alla gola mi è venuto da tossire. Poi dal momento che sono uscito con l'aria fresca è passato subito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, i carabinieri, un'ambulanza della pubblica assistenza all'avvenire, oltre al presidente della provincia Francesco Pugelli. Non appena i nostri dipendenti hanno accusato i primi sintomi, noi abbiamo immediatamente evacuato il palazzo, ma poi soprattutto subito sono arrivati il nostro soccorso, il personale sanitario che fortunatamente ha potuto accertare che tra i nostri dipendenti non ci fosse nessuno che avesse sintomi particolari di rilievo. Dalle prime verifiche è stata esclusa la presenza di monossido di carbonio e il nucleo batteriologico dei vigili del fuoco di Firenze e l'ASL non hanno riscontrato la presenza di nessuna sostanza nociva nell'aria. Per prudenza è stato deciso che i dipendenti dell'ente domani lavoreranno in smart working e rientreranno in presenza lunedì. Passiamo adesso alla cronaca. Un imprenditore di 57 anni è stato allontanato dalla casa familiare in uno dei comuni della provincia di Prato e denunciato per maltrattamenti e violenza sessuale continuata ai danni della moglie. Ad eseguire la misura chiesta dalla procura e convalidata dal GIP è stata la sezione di polizia giudiziaria della Polizia Municipale di Prato che ha condotto le indagini dopo che la donna si era rivolta al centro antiviolenza alla Nara. Agli inquirenti la vittima ha detto di essere stata costretta con la forza dal marito a subire rapporti sessuali dal 2019 fino agli inizi di quest'anno. Nella denuncia la moglie ha aggiunto di essere stata indotta a consumare alcol e a fumare marioana prima dei rapporti sessuali indesiderati. La perquisizione nella casa ha portato al sequestro di pochi grammi di marioana. Gli inquirenti hanno sentito anche alcuni testimoni amici e parenti della donna con cui la stessa si sarebbe confidata nel tempo per raccontare le dinamiche familiari. E voltiamo adesso pagina, ci colleghiamo con Giancarlo Gisonni per l'antecipazione di Parliamoci Chiaro, il nostro settimanale di attualità in onda come ogni giovedì alle 21.20. Grazie, buonasera. Termosifoni accesi da martedì scorso, anche se in molte famiglie si preferisce attendere temperature più rigide per contenere i costi energetici anche nelle scuole superiori al momento, i termosifoni rimangono spenti. Intanto il Comune ha deciso di chiudere la piscina di olio per contenere i costi e questa è una decisione che ha suscitato polemiche in città. Insomma tutto il tema attorno alla caro energia, al centro della prima parte di Parliamoci Chiaro di questa settimana, ne parleremo con gli ospiti in studio, Simone Faggi, vice sindaco del Comune di Prato, Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nella seconda parte invece torneremo a occuparci di Covid, il punto sull'andamento in particolar modo della campagna di vaccinazione. Un dato che vi anticipo, quarta dose nella ASL Toscana Centro, che comprende anche il territorio di Prato, soltanto l'11% della popolazione ha ricevuto appunto la quarta dose del vaccino anti-Covid. Ne parleremo con Renzo Berti, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Toscana Centro e nel corso della trasmissione vi proporremo anche un'intervista con il noto infettivologo Matteo Bassetti. Tutto questo a partire dalle 21.20 in diretta su TV Prato. A più tardi. Grazie Giancarlo per le anticipazioni. Voltiamo pagina per parlare di impresa e formazione. Al via la sesta edizione di E-Mod è di moda il mio futuro, promosso da Confindustria Toscana Nord per avvicinare i giovani ma non solo al Tessile, un settore che continua ad offrire opportunità di lavoro. Le aziende del distretto Tessile Pratese cercano personale. Entro la fine del 2022 serviranno 2.000 addetti. Intanto si riduce la cassa integrazione segnando un meno 90% tra gennaio e settembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Allargando lo sguardo alla Toscana e da Tirpet del secondo semestre del 2022 evidenziano per l'industria tessile abbigliamento una crescita occupazionale del 3,6% rispetto all'anno precedente. Da registrare inoltre un aumento della domanda di lavoro a tempo indeterminato con le nuove attivazioni che a Prato aumentano del 19,2%. Ed è proprio sulle risorse umane che lavora Confindustria Toscana Nord che ha lanciato la sesta edizione del progetto E-Mod è il mio futuro. Il distretto nonostante le difficoltà del Covid e gli aumenti che ci sono stati per l'energia e per il gas sta andando abbastanza bene. Il fatto sta che le aziende ricercano personale, mancheranno tantissime persone nei prossimi 5-10 anni. Non solo a Prato, anche a livello nazionale i dati sul tessile abbigliamento dicono che da qui al 2026 mancheranno 80-90 mila persone. I brand più importanti del mondo stanno investendo nella nostra area. Vuol dire che ci sono ancora competenze e risorse, quindi è assolutamente importante avere ragazzi che vengano nelle nostre aziende, aziende che possano essere un ottimo trampolino di lancio. L'edizione 2022-2023 di E-Mod è il mio futuro è segnata da un ritorno alla normalità. Il progetto, che ne hanno coinvolge un migliaio di studenti, prenderà il via il 17 novembre con le visite alle aziende rivolte a 300 alunni del secondo anno delle superiori, 200 dei quali iscritti al Buzzi, che dovranno scegliere l'indirizzo di specializzazione. Finalmente si può tornare a fare le visite nelle aziende dal vivo. Poi ci sono, come negli altri anni, dei concorsi. Quest'anno sono tre, due per il tessile e uno per il calzaturiero. Poi per la prima volta ci saranno delle iniziative per i disoccupati e gli inoccupati. Il distretto di Prato investe sulla consapevolezza e sulla necessità e sul futuro del tessile, quindi racconta ai ragazzi e alle ragazze della città, del nostro territorio, qual è la prospettiva che può esserci dal punto di vista occupazionale anche in un settore come quello tessile. Tocchiamo adesso il tema del sociale perché sono in fase di ultimazione i 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Ferraris. I lavori termineranno entro l'estate del 2023, ma intanto resta il problema dell'insufficienza di case popolari sul territorio pratese. Saranno completati entro l'estate 2023 i lavori per la realizzazione di 32 alloggi in edilizia residenziale pubblica in via Ferraris alle Badie. L'immobile è quasi ultimato, mancano gli infissi, i piccoli interventi impiantistici e poi la sistemazione esterna con verde pubblico, vasca di laminazione e posti auto per i futuri inquilini. Il cantiere è stato appaltato durante il periodo Covid e ha subito tutti gli intoppi del periodo storico, restrizioni durante le operazioni in cantiere, aumento delle materie prime e difficoltà nel reperire i materiali. I rincari rispetto all'appalto originario, quantificabili intorno a 600 mila euro, inizialmente l'importo era di 3,1 milioni, sono stati coperti grazie ai fondi dei vari decreti aiuti, ma adesso si aspetta ancora un'ultima transce di adeguamento da parte del Ministero. C'è una volontà precisa di fare in modo tale che le case popolari nella città di Prato, quelle nuove, assumano questo ruolo anche di bellezza e di introdurre qualità nel contesto in cui si inseriscono da un punto di vista insediativo e architettonico. Gli esempi sono questo, recentemente il concorso di progettazione per via della fonderia, l'unico edificio Nirli's Energy Building, quindi vuol dire il più alto livello da un punto di vista di risparmio e qualità energetica, sono case popolari a Gello. Ogni alloggio va dai due ai quattro vani, nell'ultimo piano ci sono la centrale termica e idrica, mentre sul tetto i pannelli fotovoltaici. Non a caso l'edificio è in classe A4, cioè la più alta possibile. Il cantiere è stato al centro di un sopralluogo delle commissioni comunali urbanistiche e lavori pubblici e durante il dibattito politico è emersa la necessità di mettere in programmazione la costruzione di nuove case popolari. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Ode Pratese è di circa 1800 alloggi e considerato appunto la necessità, stante la graduatoria appena uscita con 1600 domande fatte di cui 1190 risultate donne, si capisce bene che aumentare il patrimonio nell'Ode Pratese diventa una necessità irrimandabile. E ci spostiamo ora in Val Bisenzio dove un'automobilista ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada. Il conducente sulla quarantina è rimasto bloccato all'interno del veicolo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto assieme a carabinieri di Vernio e a due ambulanze inviate dal 118, una della pubblica assistenza e l'altra della misericordia di Vaiano. Il sinistro nel quale non sembrano essere coinvolti altri veicoli è avvenuto ieri sera, poco dopo le ore 21, a Schignano. L'automobilista è stato trasportato in ospedale in codice giallo e per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. E cambiamo argomento, è a Prato il numero più alto di parti pretermine registrati nei punti nascita dell'ASL Toscana Centro. Sono stati 125 dall'inizio dell'anno. Il prossimo 17 novembre sarà organizzato un open day per sensibilizzare la popolazione sul tema e informare i cittadini. Sono 329 i bambini prematuri venuti alla luce nei punti nascita dell'azienda USLE Toscana Centro dall'inizio dell'anno ad oggi. Bambini piccoli e fragili, tanto da non aver raggiunto la 37esima settimana di età gestazionale. Di questi 329 ben 125 sono nati al Santo Stefano di Prato, ovvero il numero più alto tra i punti nascita dell'azienda. Proprio in occasione della giornata del prematuro, in programma per il prossimo 17 novembre, i vertici aziendali organizzeranno nei vari ospedali alcuni open day, insieme a Fondazione AMI, Associazione Piccino Picciò, Associazione Cuore di Maglia e operatori delle neonatologie. In ogni presidio saranno proiettati e commentati filmati relativi alla presa in carico dei piccoli pazienti da un punto di vista medico, dal momento della nascita, ricorso alle cure intensive, fino alla dimissione. L'obiettivo è richiamare l'attenzione sul tema delle nascite premature, sensibilizzando la popolazione sulle problematiche dei parti pretermine e sulle difficoltà che si trovano a dover affrontare anche i genitori durante il percorso di sopravvivenza e di crescita dei loro bambini. Il colore che caratterizzerà questa giornata sarà il viola. Tornando ai numeri, dal 1 gennaio 2022 sono stati appunto 329 i bambini nati pretermine nei sei punti nascita aziendali, 42 al San Jacopo di Pistoia, 125 appunto al Santo Stefano di Prato, 8 a Borgo San Lorenzo, 18 al Santa Maria Annunziata e 96 al San Giovanni di Dio nell'area fiorentina e 40 al San Giuseppe di Empoli. Nel mondo un bambino su 10 nasce prematuro, mentre in Italia i neonati prematuri sono il 6,9% delle nascite, percentuale che ha visto un incremento negli ultimi due anni di emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni, nella giornata del prematuro saranno disponibili gli operatori dei reparti di neonatologia, pediatria e ostetricia dell'azienda Usle Toscana Centro. E restiamo in tema. Preso il via ieri sera la terza stagione di In Salute, la trasmissione di medicina e benessere di TV Prato, curata e condotta da Marilena Chiti. Tanti gli argomenti trattati nel corso della prima puntata, con un focus sul diabete. Guardate. Quando ci riferiamo al diabete parliamo di solito del diabete di tipo 2, è quello più rappresentato ed è determinato prevalentemente dal sovrappeso delle persone che poi sono affette da diabete e altre patologie associate come ad esempio l'ipertensione o la dislipidemia, quindi l'aumento del colesterolo e dei trigliceridi. È una patologia che deve essere assolutamente trattata perché il problema principale del diabete che non dà assolutamente sintomi, almeno all'inizio, fino a quando non si scompensa il quantitativo del glucosio nel sangue, è necessario trattarlo perché le problematiche principali sono determinate dalle complicanze cardiovascolari e renali. Parliamo del diabete di tipo 2. E l'appuntamento con In Salute tutti i mercoledì alle 21.20. La prima puntata può essere rivista in replica sabato alle 15.30 e domenica alle 10.15 oppure sul nostro sito web tvprato.it. Una giornata di studi dedicata alla più antica biblioteca di Prato, la Roncioniana, che festeggia un importante traguardo. Sono passati 300 anni dalla fondazione della biblioteca roncioniana, la più antica biblioteca di Prato, all'interno della quale sono custoditi 60.000 volumi e migliaia di manoscritti. Per festeggiare questo anniversario è stata organizzata una giornata di studi dedicata alla storia di questa antica istituzione culturale pratese, nata nel 1722 per eseguire la volontà testamentaria di Marco Roncioni, morto senza eredi alla fine del Seicento. Quel secolo è fondamentale per la storia religiosa ma anche civile della città di Prato. Non solo ci fu i roncioni, ci fu la costituzione del seminario, del collegio Cicognini, ci fu l'Accademia dei Semplici, il decreto del Gran Duca Ferdinando II che dette alla terra di Prato la dignità di città e quindi consentì anche l'istituzione della diocesi. Tutto questo si tiene con questa istituzione. La biblioteca roccioniana ha rappresentato un elemento importante di sviluppo culturale e anche di conservazione delle memorie cittadine, anche se nella sua prima fase ha più sottolineato l'aspetto propriamente della biblioteca, ovvero sia mettere a disposizione del materiale per lo studio. Poi a partire dall'Ottocento, dal primo ottocento, è diventata anche un luogo di conservazione di una serie di materiali che rimangono essenziali per la ricostruzione e lo studio della storia, non soltanto cittadina ma anche della nostra zona. Dopo i saluti del Vescovo Giovanni Nerbini, nel corso della giornata di studi, si è parlato, tra le altre cose, della vita di Roncioni, della storia della roncioniana, del bibliotecario Luigi Sacchi e il Sacro Cingolo, di Cesare Guasti e la Crusca e delle vicende edilizie del Palazzo della Biblioteca. Ci sono stati un'infinità di progetti, prima nella zona della Canonica del Duomo, poi sopra la Compagnia di San Girolamo, cioè di fronte qui all'attuale biblioteca, in San Francesco, con liti, controversie varie, architetti importanti coinvolti, e infine Alessandro Saller, che è quello che ha progettato un palazzo e poi il progetto fu riadattato da capomaestri pretesi per questo spazio. Sei donne suore nella Cina tra il 1932 e il 1949. La loro avventura cristiana è al centro di un incontro in programma domani sera a Poggio a Caiano. Scopriamone di più. Da Poggio a Caiano in Cina, 90 anni fa, l'avventura missionaria di sei suore nel Fujian, un'avventura cristiana raccontata nel libro Estamos in Cina, edito nel 1990 dalla tipografia Poliglotta Vaticana, che sarà il centro dell'incontro organizzato dall'Istituto Suore Francescane Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, in programma domani sera al Cinemateatro Ambra. L'incontro, con inizio alle 21, sarà moderato da Gianni Rossi, direttore di TV Prato, che intervisterà l'autore Emilio Giovanneschi e introdurrà il relatore Giorgio Bernardelli, direttore editoriale di Asia News. Giacomina, Salvatrice, Edwige, Bruna, Teobalda, Salesia, questi nomi delle sei suore che nel 1932 intrapresero la missione nella regione cinese del Fujian, allora poverissima. Una missione durata 17 anni per portare il Vangelo e per testimoniarlo, con opere educative e sociali, verso le famiglie con maggiori povertà, verso l'infanzia, in particolare verso le bambine, allora spesso oggetto di discriminazioni. Una sfida piena di incognite e anche di violenze subite dalle stesse suore, tanto che nel 1949 furono costretti a fuggire dalla Cina. Alla serata interverranno anche Don Pietro Wang, cappellano della comunità cattolica cinese a Prato, il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Pugelli, e il vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli. Il saluto delle suore minime sarà portato dalla madre generale, Annalisa Colli. Nel corso della serata sarà proiettato un video con foto inedite delle suore poggesi in Cina, e verrà anche distribuito, insieme al libro, un fascicolo sugli avvenimenti in Cina dopo il 1949 e sulle vicende odierne, con una particolare attenzione alla presenza dei cattolici e ai rapporti fra la Repubblica Popolare Cinese e il Vaticano. Il ricavato della serata sarà devoluto alle attività svolte oggi dalle minime nella difficile realtà dello Sri Lanka. E parliamo adesso di giovani e teatro, accompagnare le ragazze e ragazze a teatro, incoraggiando proprio chi magari mai avrebbe pensato di vivere l'esperienza sempre suggestiva dell'incontro con il palcoscenico e con gli attori. Con questo obiettivo si rinnova la collaborazione tra il Teatro Metastasio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato attraverso il progetto Da 1 a 100. Anche quest'anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato acquista 100 abbonamenti per due spettacoli del cartellone della stagione in corso e li mette a disposizione di studenti fra i 14 e i 20 anni residenti nella provincia di Prato. Novità di quest'anno i mini abbonamenti che saranno destinati agli studenti degli istituti tecnici, professionali, cittadini che non hanno mai messo piede in teatro perché intimoriti o disinteressati, riservando particolare attenzione a coloro che si trovano in situazione di disagio. E scopriamo adesso di che cosa si parlerà questa sera d'intorno alle 9 in onda dopo il Tg. Ci dice tutto Lucrezia Sandri. Sì, grazie della linea. In città sono arrivati gli smart beans, i cassonetti intelligenti per la raccolta degli abiti, delle stoffe, delle borse usate. Un ruolo in questo percorso lo hanno il Comune di Prato, la Fondazione Caritas e l'Istituto Bugzi. Questa sera ho con me ospiti Marcello Turrini per la Fondazione Caritas. Buonasera. Buonasera. E il professor Francesco Tognocchi per il Bugzi. Buonasera. Per saperne di più non vi resta che rimanere su questo canale subito dopo il Tg intorno alle 9. Bene, grazie Lucrezia. Cambiamo adesso argomento. Sono Chiara Detti e Silvia Chiti, due wedding planner pratesi, a vincere la trasmissione Quattro Matrimoni. Fondatrici di Ares Wedding and Event Tuscany si occupano di matrimoni e organizzazione di eventi ed hanno vinto il format curando le nozze di Giada Cavataio e Nicola Bertoli. Guardate. Sono due wedding planner pratesi, Chiara Detti e Silvia Chiti, fondatrici di Ares Weddings and Events Tuscany, a vincere la trasmissione Quattro Matrimoni, il format di Sky, che mette in competizione il giorno del fatidico sì di quattro spose, valutando nei location qualità della ristorazione, organizzazione dell'evento e bestiario. Chiara e Silvia hanno portato in Toscana, a Montespertoli, la trasmissione condotta da Costantino della Gerardesca, curando ogni dettaglio delle nozze di Giada Cavataio, ex campionessa del mondo di pattinaggio a rotelle categoria senior, e di Nicola Bertoli, personal trainer. Al termine della prima fase, Giada e Nicola erano secondi in classifica, ma poi il voto decisivo del conduttore ha ribaltato l'esito finale della competizione, premiando le nozze organizzate dalle wedding planner pratesi per l'eleganza e l'attenzione ai dettagli dell'evento. Dalla vittoria di questa trasmissione ci rimane tanta, tanta, tante emozioni che abbiamo avuto non soltanto quel giorno, ma anche il riscontro che abbiamo avuto a seguito della comunicazione di questa vittoria. Fondamentalmente, per noi quattro matrimoni è stata un'occasione, una nuova esperienza, ma è stata anche una rivincita personale, proprio perché molto spesso la nostra età, avere 26 anni, risulta essere un fattore discriminante. Invece con questa vittoria forse possiamo dimostrare a tutti i giovani, i ragazzi e anche i giovani professionisti che l'età fondamentalmente è un numero, anzi può essere un valore aggiunto. L'idea di Detti e Chiti è quella di sviluppare l'organizzazione di matrimoni a Prato destinati a turisti italiani e stranieri. In particolare hanno già allestito un portale dedicato ai turisti internazionali con uno sguardo specifico all'Inghilterra, col quale provare a convincere i futuri sposi che amano la Toscana a scegliere Prato come meta per le nozze e per il ricevimento. Idea già discussa e apprezzata dal sindaco Biffoni e dall'assessore Bosi. Il nostro progetto di Aries Weddings and Event Tuscany appunto nasce proprio dalla nostra voglia di portare Prato e il nostro territorio toscano alla ribalta. Infatti abbiamo già parlato con il sindaco Biffoni e con l'assessore al turismo Bosi per quanto riguarda un nostro progetto di voler coinvolgere tutte le imprese locali e territoriali e quindi far crescere anche tutte quelle belle location che abbiamo nella nostra bellissima città di Prato e portarle appunto in alto. Ed è arrivato adesso il momento dell'agenda vediamo insieme quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato ed intorni. domani venerdì 11 novembre alle 17 alla biblioteca Lazzerini Le Not su Chopin e il classicismo Gidiano incontro a cura di Rene Calamai nell'ambito della rassegna Vive la France alle 21 a officina giovani Io odio Apologia di un bollo skin spettacolo a cura di Santi Briganti Teatro drammaturgia di Valentina Diana nell'ambito della rassegna extemporaneo Alle 21 nella sala consigliare di Carmignano la prima guerra mondiale conferenza a cura del professor Francesco Venuti dell'Associazione Nazionale Combattenti Arreduci di Prato Alle 21 e 30 al Museo di Scienze Planetarie i giganti del cielo autunnale incontro in collaborazione con l'Associazione Pratese Astrofili Polaris e osservazione dei pianeti direttamente dal telescopio in proiezione su maxischermo infine gioco a quiz per i più piccoli prenotazione obbligatoria Fino a domenica 13 novembre al Teatro Fabrichino Lancillotto e Ginevra spettacolo in prima assoluta diretto da Giovanni Ortoleva una produzione Teatro Metastasio con il supporto del Centro di Residenza della Toscana e Canterstrasse Residenza Artistica Olinda Teatro La Cucina Lo spettacolo va in scena nei giorni feriali alle 20 e 45 sabato alle 19 e 30 domenica alle 16 e 30 E dalla nostra redazione per il momento è tutto vi lasciamo ora al meteo a cura del Consorzio Lamma a seguire intorno alle 9 e alle 21 e 20 il settimanale di attualità Parliamoci Chiaro L'informazione di TV Prato torna domani alle 13 e 45 con il Tg del giorno Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar Era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui Mi definivano abile scaltro infallibile E anche se non ce l'ho fatta ci riproverò Potete stare tranquilli voi CompratoPol Non è un caso che siano professionisti della sicurezza Per comprare, vendere e affittare casa rivolgiti a Tecnocasa la più grande rete d'Italia nell'intermediazione immobiliare residenziale e per l'impresa Ci trovi vicino a te nelle nostre nove agenzie affiliate a Prato e provincia e sul nostro sito tecnocasa.it uno dei più cliccati da chi cerca casa esperienza e competenza per trovare velocemente l'immobile che fa per te Puoi lavorare con noi? Inviaci il tuo curriculum scrivi a toscana chiocciolatecnocasa.com Tecnocasa la più grande rete fisica e virtuale in Europa Buonasera e ben ritrovati con il meteo a cura del Consorzio Lamma pressione in aumento sulla nostra penisola nei prossimi giorni con tempo nel complesso stabile anche se nel fine settimana area un po' più fredda in quota dai Balcani si spingerà verso il sud della nostra penisola favorendo l'aumento dell'instabilità soprattutto sulle regioni meridionali dell'Italia questa a causa dell'alta pressione che dall'Europa centrale si spingerà fino a quella orientale pertanto la previsione per la giornata di domani all'insegna di un generale miglioramento cielo al più poco nuvoloso con nubi più compatte sull'Appennino specialmente sulle zone che si affacciano sulle Mila Romagna quindi Alto Mugello Casentino e Valtiberina e no non si esclude proprio su queste zone qualche debole e isolata pioggia nel pomeriggio cielo al più velato con ancora nuvolamenti più consistenti sui versanti orientali dell'Appennino per quanto riguarda infine la giornata di sabato una giornata all'insegna del cielo poco o parzialmente nuvoloso ancora velature in transito nubi più consistenti in Appennino caleranno soprattutto le temperature a causa di una ventilazione a tratti più sostenuta dal nord-est quindi venti moderati con qualche raffica più intensa e temperature che non andranno oltre i 15-18 gradi centigradi è tutto grazie per l'attenzione una buona serata e a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.